Ciao a tutti ragazzi da Corra09, bentornati sul mio canale per questa mia prima apertura di Azenon XL 2013-2014, ragazzi spettacolare, finalmente sono arrivate e appunto sul mio canale, non su quello del TGG, però queste bustine come avevo già anticipato sia queste che quelle di calciatori panini diciamo normali che usciranno quindi davvero splendide ragazzi, su questo canale ci saranno appunto queste bustine ma vi ricordo anche di iscrivervi agli altri due, per i The Game 8 e The Master Gigi Collector comunque adesso partiamo, sono 4 differenti artwork, questo qui, questo qui, questo qui, questo doppio e questo qui partirei proprio dal doppio e vediamo che questa prima apertura speriamo insomma che sia bella tanto lo vediamo anche qui, card speciali card base, vabbè, ogni bustina, 1 su 15 bustina, new generation 15, scusate, su 13 13 poi idoli della curva, capire in carica, 1 su 6 muri 1 su 12, loghi 1 su 6 eccetera eccetera ragazzi, non spero ovviamente di trovare quelle più rare ma almeno come prima apertura magari una idolo o queste cose qui, quasi che ci sia qualcosa che sbrilluccica ecco quello l'importante, per darmi un po' di morale di, per questa prima apertura appunto vediamo allora di aprire al meglio senza lasciar niente dentro adesso non un po' diuretale a tirare fuori se ci riusciamo oh no, perca miseria ah perché qui dovevo ancora aprire bene, ok scusate grande novità ragazzi, mi piace per questa novità e ovviamente se mi piace il video mi piace ma spero di sì allora adesso appunto una novità vediamo subito si parte benissimo, guarda che bella artwork veramente bellissimo e si parte con Pugioni, portiere del Chievo che bello, veramente bello, c'è anche un effetto 3D James Valdes Mertens, scusate del Napoli, molto forte attenzione, questa deve essere una rara benissimo Icardi dell'Inter c'è anche il numero delle carte probabilmente questo, lo so, no non penso forse no, ci sarà qualcos'altro Amaury fortissimo, benissimo un centrocampista ragazzi, brillante che è Giulio Migliaccio cos'è? Idola, si si è scritto, scusate, non si vedeva tanto guarda che bello questo effetto che figata effetto, vedo e non ti vedo Giulio Migliaccio subito una idola nella prima bustina perfetto ragazzi si parte bene andiamo a proseguire così magari un po' più velocemente vedetevi anche un po' male non mi importa tanto spero che ce ne saranno altre c'è un fogliettino in questa questa bustina va bene così Manuel Punch Pablo Alvarez Eder Morgan De Santis Tevez 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 ragazzi, grandissimo e attenzione c'è una new generation che è Nicola Murro non fortissimo ma new generation che era una carta in meno forse in questo bustino dato che c'era un fogliettino non ho un'idea forse sì bene, veloci, veloci, veloci la massima velocità una idola new generation va benissimo però voglio ancora vedere sbrillucicare qualcosa altro San Pirisi Giuseppe Rossi grande Yuto Nagatomo Rafael Mario Gomez grande Leto e basta quanti sono le carte scusate che erano 1, 2, 3, 4, 5, 6 perfetto altri due bustine da aprire insieme dai regalami qualcosa di sbrillucicoso altra cartina lì Maurizio Domizzi e il muro se ne trovano uno su aspetta che qua non si vede bene è comunque bellissimo vediamo se leggiamo da qua muro uno su 12 si è scritto sì uno su 12 ragazzi quindi che fortuna grande grande nostro nostro primo muro Andrea consigli andiamo avanti con l'ultima bustina ragazzi ma ci sono ovviamente altre aperture Michele Canini Emanuele Badu Renan Bielo Lempianic grande Izko Capitano e alla fine Josef Hallejon grande apertura ragazzi queste 5 bustine mi raccomando mettete un mi piace commentate ed iscrivetevi e io vi aspetto al prossimo video ciao ciao